Un saluto, ben trovati alla voce delle istituzioni, ospite in studio questa sera Gianni Burigo, sindaco di Soverzane, che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito. Buonasera a tutti voi. Iniziamo parlando subito di coronavirus, c'è stato un picco a marzo, c'è stata un po' una discesa dei contagi in estate, adesso speriamo che la situazione si stabilizzi. A Soverzane l'intera emergenza, come è stata vissuta? Allora, anche Soverzane, come altri comuni della provincia, salvo appunto pochi casi che non si sono verificati, anche Soverzane ha avuto il suo caso di coronavirus. La questione è stata gestita molto bene all'interno del paese, anche in virtù del fatto che abbiamo degli uffici che lavorano molto bene e quindi c'è stata collaborazione da parte di tutta la popolazione per cercare di agginare quello che è diventata una pandemia a livello nazionale. Noi uscivamo da quel periodo con dei programmi per una visita del patto di amicizia che abbiamo sottoscritto a febbraio con Caldo Sul. Abbiamo ricevuto la delegazione brasiliana a febbraio, tutto è andato per il meglio e eravamo un po' inconsci di quello che ci stava aspettando, tant'è che dovevamo contraccambiare la visita ad agosto di quest'anno, naturalmente è saltato tutto, e abbiamo riprogrammato per almeno l'anno 21, poi si vedrà. Per quanto riguarda i centri estivi, i Grest, cose del genere, sono stati organizzati? Noi ci appoggiamo a una collaborazione con Ponte nelle Alpi, abbiamo da diversi anni durante l'estate un'associazione che porta avanti quello che è il tempo libero dei ragazzi, si chiama AA Offresi, sono dei servizi che i ragazzi danno al comune e alla comunità per piccoli lavoretti di manutenzione del verde, pulizie generali, eccetera. Tutto è funzionato per il meglio, anche perché comunque i numeri erano più risicati rispetto al passato, però insomma abbiamo portato a termine questa avventura anche quest'anno. Cambiamo argomento, parliamo di viabilità, qui c'è un problema poiché Sovergene diventa un po' lo sfogo per quegli automobilisti che incontrano ingorghi nella zona di Longarone. Su questo? Sì, ha detto bene, già noi vediamo un aumento del traffico anche prima del mese di agosto, al mattino e alla sera per gli operai che si recano la zona industriale di Longarone. Adesso la questione è diventata assillante perché comunque è diventata effettivamente un'alternativa a quella che è la statale, la S51, d'Alemagna, perché già di primo mattino la coda in autostrada è evidente. Quindi chi conosce questa strada alternativa la frequenta sovente. Noi abbiamo un semafero che gestisce un po' questo flusso e ci viene incontro anche per quanto riguarda il gestire la nostra viabilità interna al paese. Tuttavia sono questioni rilevanti perché abbiamo portato anche ai tavoli di Anas, ma della provincia stessa, quelli che sono i punti un po' nevrangici da mettere in ordine per evitare ingorghi e mettere in sicurezza ulteriore la strada. Riguardano tuttavia il territorio in ingresso al ponte di Soverzene, quindi territorio di ponte nelle Alpi e poi il territorio di Longarone. Siamo in contatto con entrambe le amministrazioni, convene intostrare anche per poter portare un miglioramento a quello che è la sicurezza sulla viabilità interna. Adesso poi in questo periodo di cantieri la situazione è ancora peggiore, qual è un po' la sua proiezione rispetto a questo, rispetto anche magari ai mondiali, ai vari eventi sportivi che ci saranno? Ci siamo fatti un'idea, noi dovremmo soffrire sicuramente fino a che non verrà realizzata la variante di Longarone e qui se ne parla non prima di 4-5 anni, purtroppo Longarone soffre tantissimo, soffrono i turisti, soffrono gli operai che vanno a lavorare, soffre l'intera provincia con questo nodo che è proprio un colo di bottiglia. Soverzene potrebbe essere effettivamente un'alternativa per arrivare alla variante, però necessita immediatamente di interventi di piccolo conto poi se vogliamo, però necessari per mettere in sicurezza ulteriore quella che è la strada che porta verso Longarone. Continuiamo a parlare di viabilità, ma su due ruote, diciamo così, le ciclabili, ma il tempo ha rovinato una bellissima ciclabile che c'era a Soverzene, a che punto siamo? Siamo a un punto fermo e questo ci rammarica tantissimo perché arrivano sovente richieste di informazioni per capire quando verrà riaperta la ciclabile verso Socher. Al momento tutti i cicloturisti che provengono da Nord, già con tutte le difficoltà che hanno proprio in virtù dei cantieri di Cortina 21, arrivano a Soverzene e sono costretti ad attraversare il ponte Diga. Su questo aspetto noi ci stiamo lavorando da tanto tempo e cerchiamo di far sì che possa nascere una passerella ciclopedonale sul ponte. La provincia ha stanziato 100 mila euro per la progettazione, poi vedremo di reperire le risorse necessarie per la realizzazione, risorse che avremo già individuato nei fondi di confine, gli Exleta, che dovrebbero essere disponibili dall'inizio dell'anno prossimo e che condivideremo ben volentieri con i comuni di Ponte delle Alpi, con l'Enel che è il proprietario dell'infrastruttura e Veneto Strade che è la proprietaria della strada provinciale SB11. Tornando invece alla strada, la ciclabile verso Socker, stiamo attendendo che la Regione ci dia risposte affermative per una protezione spondale che ci possa permettere poi di ricostruire la ciclabile. Siamo in attesa già da diversi mesi dell'ordinanza che potrà sbloccare questi soldi, però al momento non abbiamo ancora certezze di quando potrà essere riaperta. Continuando a parlare di lavori e di ciclismo, c'è alle viste una nuova ciclabile e anche dei lavori sul cimitero, mi accennava. Sì, per quanto riguarda la ciclabile, tornando al discorso che facevo poc'anzi, noi cerchiamo di mettere in sicurezza il passaggio dei ciclisti, a maggior ragione in questo momento in cui il traffico si è fatto pesante dal punto di vista dell'alternativa alla 51 d'Alemagna. Stiamo realizzando e partiranno a breve i lavori di un tratto di ciclabile che dagli impianti sportivi porterà in paese. Quindi toglieremo anche dalla strada, proprio dalla salita che porta in paese, i ciclisti che transiteranno sempre in direzione nord-sud. Per quanto riguarda invece i lavori al cimitero, questi sono in procinto di essere assegnati. Qui c'è un lavoro che va avanti da diversi anni e siamo arrivati al dunque perché ci sono stati anche problemi di natura così idrogeologica per quanto riguarda questo tipo di interventi, per cui siamo pronti adesso di iniziare i lavori e dovremmo andare ad abbattere quelle che sono le barriere architettoniche ancora presenti all'interno del cimitero. Per quanto riguarda invece l'illuminazione pubblica e via Piave, altri due interventi? Sì, l'illuminazione pubblica del centro storico, con l'intervento che anche questo partirà a brevissimo, noi completeremo quella che è l'illuminazione a led di tutto il comune. Quindi è l'ultimo intervento e siamo orgogliosi di questo perché comunque riscontriamo un buon risparmio su quella che è la bolletta della luce. Quindi in questo caso certamente ne troveremo dei benefici e anche la popolazione stessa sarà favorevolmente colpita da questo. Per quanto riguarda via Piave, qui il progetto è in ultimazione, stanno procedendo da quelli che sono gli espropri di allargamento e di completamento di via Piave e anche questo è un lavoro da 250 mila euro che dovrà partire a brevissimo. Per quanto riguarda invece il piano interventi del comune, cosa ci può dire? Il piano interventi si è concluso dopo un iter che anche in questo caso ci ha visti impegnati negli ultimi tre anni, quindi praticamente dalle elezioni. C'era un punto che avevamo messo in programma, siamo ben contenti di essere arrivati in fondo, potevamo farlo prima se non ci fossero state le varie relazioni richieste per quanto riguarda la microzonazione, noi siamo uno dei 25 comuni interessati al rischio sismico, per cui siamo dovuti arrivare alla relazione di terzo livello. Terzo livello che era proprio ideutico proprio per poter poi avviare quello che era l'iter definitivo del piano degli interventi. Dalla relazione è emerso che noi siamo soggetti a rischi abbastanza rilevanti per quanto riguarda i crolli sismo indotti, quindi crolli dalla montagna verso l'abitato, l'abitato che peraltro è abitato come vorrei rimarcare. Quindi in questo caso, siccome la competenza della difesa del suolo è dell'ente provincia, noi abbiamo già in un tratto richiesta alla provincia per avere le risorse necessarie a sistemare le protezioni all'abitato. Tra l'altro, zone a rischio sismico, Sovergene non è l'unica, ma Sovergene ha questa particolarità di avere dei promontori rischiosi. Molto vicini all'abitato e proprio da sismo indotto. Ha questa particolarità perché la morfologia è questa. Altri comuni come il nostro, mi viene in mente che potrebbe essere Longarone che ha la stessa morfologia territoriale. Altri saranno soggetti ad arrivare alla relazione di terzo livello, però non riguarderanno crolli dalla montagna. Questo è ormai risaputo. Anche perché si parla spesso di rischio idrogeologico, questo è un rischio che magari è un po' sottovalutato. Sì, indubbiamente. Mi auguro che la provincia sia sensibile e poter stanziare le risorse necessarie perché in questo caso faremo della prevenzione. Noi sovente ci riempiamo la bocca del fatto di dire facciamo prevenzione. In questo caso la faremo veramente perché abbiamo i documenti in mano che ci attestano il rischio che ci può essere. Parliamo un po' della vita sociale, diciamo, del paese. Voleva fare un appello per quanto riguarda il negozio che c'è a Soverde. Sì, è un percorso che abbiamo intrapreso un paio di anni fa, ormai siamo arrivati in fondo. Avevamo fatto anche un bando al quale aveva partecipato una persona che però che per problemi personali non potrà aprire a breve il negozio, per cui ci stiamo guardando intorno per capire se c'è qualcuno che ha interesse a venire a Soverde ad aprire questo negozio che si trova in piazza, quindi insomma sul passaggio anche del Venezia Monaco, quindi siamo proprio nel bel mezzo del paese. Tutto rinnovato, già tutto arredato, stiamo appunto attendendo che ci sia qualcuno che abbia voglia di aprire questo negozio che non sarà solo di genere alimentari, perché lo sappiamo bene che di genere alimentari soli non si può vivere a Soverde perché siamo talmente vicini ai grossi centri commerciali che la gente poi si serve anche di questi. Sarà un pancaffè, quindi chi vorrà fermarsi e fare colazione bere un caffè anche, cappuccino, brioche, quindi oltre a quello che potrebbe essere alimentari specifico dei generi. Tra l'altro lo si fa rivolgendoci anche ai potenziali gestori futuri di questo punto di ristoro, non solo per Soverzene ma anche un po' per il territorio tutto, in totalità. Tantanto il discorso che in questo momento Soverzene è un'alternativa alla 51, qualcuno potrebbe fermarsi anche pensando di salire verso il cadore stesso o anche solamente pensando ai due paesi della sinistra piave di Longarone, Provagna e Donia, quindi passando di là potrebbe essere comido di fare la spesa prima di salire a casa. Chiudiamo con la cultura, c'è stato un evento qualche tempo fa, l'apertura della centrale con anche tra l'altro una visita guidata ai vari opere d'arte, come è andata e purtroppo se si potrà fare o no, presumo la risposta sia no. In questo momento direi proprio che non è il caso di avventurarci a fronte di circa 2000 persone che si sono recati in visita l'anno scorso durante la giornata dei percorsi da memoria svolti a Longarone, che si sono recati in visita alla centrale. Noi è da parecchio tempo che abbiamo un contatto con i vertici dell'Enel proprio per dare risalto ulteriore a quella che è la centrale di Soverzene che ricordiamo sempre dei bellissimi affreschi del Rasenter in galleria. Cerchiamo appunto di dare maggior visione a quella che è proprio la centrale perché comunque è un fiorocchiello sia per il comune di Soverzene ma anche per l'Enel stesso. Quindi c'è tutto un percorso per capire quello che si può fare dal punto di vista proprio mediatico. Quest'anno non sarà possibile farlo, noi avevamo cercato di creare proprio una giornata dedicata alla visita alla centrale dovrà essere posticipata per forza di cose. Bene, il tempo a nostra disposizione termina qui. Io ringrazio Gianni Burigo, il mio ospite sindaco di Soverzene, grazie ancora. Buona serata a tutti e alla prossima. Ringrazio voi per l'attenzione, arrivederci. Ringrazio voi per l'attenzione, grazie a tutti.